Allora, eccoci agli ultimi sgoccioli. Oggi, come già previsto, faremo una delle due simulazioni d'esame, l'altra sarà mercoledì in laboratorio, quindi quella di oggi ovviamente sarà a cavallo tra la lezione di oggi e la prima ora di domani. Io ho preparato un testo che cerca di, in qualche modo, copiare la tipologia di testi che abbiamo durante l'esame, lavoriamo su un dataset nuovo. Quindi vedremo un dataset nuovo oggi, ne vedremo un altro mercoledì in laboratorio e questi due dataset, come ho già detto, saranno quelli che almeno per i primi due appelli saranno utilizzati durante gli esami. Quindi facciamo qualcosa leggermente diverso, nuovo, ma non troppo nuovo. Il progetto è scaricabile da questo indirizzo, quindi non usiamo GitHub perché l'esame non lo useremo, vi daremo da scaricare uno zip, bit.ly 2 j maiuscolo, minuscolo, 4, n maiuscolo, j maiuscolo, n maiuscolo. Sono quei servizi di accorciatore di URL che se va bene, se l'avete scritto correttamente, vi dovrebbe portare a una pagina di questo genere da cui potete scaricare uno zip che contiene quello che chiamiamo il progetto base, quindi il progetto di partenza su cui lavorare. Una volta scaricato questo progetto base, dobbiamo importarlo dentro Eclipse e poi andremo a leggere il testo e vedere cosa dobbiamo fare. Allora, per importarlo, import, la voce da selezionare è progetti esistenti nel workspace, siccome non scegliete anche archivio, perché in questo caso purtroppo i nomi dei menu di Eclipse sono probabilmente stati creati da qualche divinità malefica, per cui dai nomi esattamente a controllo di ciò che sembra. Archive file non è per importare un nuovo progetto sotto zip, ma è per importare da uno zip all'interno di un progetto che già esiste, mentre invece per creare un progetto nuovo devi scegliere il progetto esistente. Questo tanto per. Comunque il messaggio che c'è sopra parla per sé. Selezionare un archivio e questo archivio da dove l'abbiamo scaricato, io ce l'ho qua, voi ce l'avrete scaricato da qualche parte sul desktop dopo qualche cartella download, tecniche programmazione, no, pardon, qua, qua, questo. Quindi apriamo lo zip e Eclipse dovrebbe riconoscere che dentro questo zip c'è un progetto e quindi lo importa, lo importerà come progetto e ce lo farà vedere nel workspace. Non fate l'errore di salvare lo zip dentro il workspace, quando lo scaricate, né di scompattare lo zip e copiarlo dentro il workspace, perché altrimenti poi Eclipse non riesce a copiare nella stessa cartella da cui sta importando, no? E quindi dice, non ci riesce, non funziona, eccetera. Ok, a parte questo, c'è arrivato un nuovo progetto che qui si chiama simulazione 2018-06-11, che se non ho sbagliato è la data di oggi. E all'interno del progetto io ho messo un pdf che è il testo della simulazione d'esame di oggi. Ok? Allora, spendiamo un attimo a leggere il testo, visto che come all'esame non lo vediamo prima, lo vediamo al primo momento qua. Si considera un dataset UFO sightings, avvistamenti di UFO, che riporta una serie di 80.000 avvistamenti di presunti UFO, ora sarebbe più giusto dire presunti avvistamenti di UFO, tra il 1906 e il 2014, no? Questo database, qui c'è anche il link, se siete curiosi di vedere da dove è stato tratto, contiene una tabella sola, questo database, molto semplice, una tabella sighting, che avrà una riga per ogni avvistamento, sighting, avvistamento, e la tabella contiene questi campi. Io qua ho copiato, semplicemente formattandolo un po' meglio, la documentazione, in realtà c'è solo questo di documentazione, che c'è sul sito di partenza. E ci dice che cosa rappresentano le varie colonne dell'avvistamento, quindi abbiamo la data e l'ora dell'avvistamento, la città, lo stato e la nazione, questo è pensato, la differenza tra stati e country, pensate negli Stati Uniti, che sono un'unica country, sono dividita in molti stati, ti ringrazio. E la forma dell'UFO, perché ovviamente può essere quadrato, triangolare, sfera, grazie molte, eccetera. La durata dell'avvistamento, che è semplicemente una stringa questa, la durata dell'avvistamento è scritta due volte, la prima come valore numerico in secondi, quindi 180 secondi, la seconda come ore barra minuti, quindi una stringa che descrive 3 ore e 5 minuti o qualcosa del genere. Eventuali commenti. La data, attenzione, non confondiamo questa con l'altra data, questa è la data dell'avvistamento e quella sotto è la data del posting, cioè di quando questo avvistamento è stato inserito nel database, è stato reso pubblico, e poi le coordinate, l'attitudine e la longitudine del, chi non so se dirvi, dell'UFO o della persona che l'ha visto, dello svalvolato che l'ha visto, espresse come valori numerici. Vabbè, questa è la tabella. Si intende costruire un'applicazione JavaFX che permetta ad un utente di interrogare tali avvistamenti e di compiere delle analisi sugli stati in cui tali avvistamenti sono avvenuti. Si devono considerare esclusivamente, quindi la tabella vale su campo mondiale, ma noi si devono considerare esclusivamente gli avvistamenti registrati negli Stati Uniti, cioè in cui il campo count sia uguale US, dividendolo in funzione dei 52 stati americani, cioè colonna state. In particolare, l'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni, e qui abbiamo il punto 1 e il punto 2 come ci aspetteremmo. Allora, diamo un'occhiata prima di leggere il punto 1 al database, e ne approfittiamo per importarlo. Allora, bisogna avviare il database, se usate XAMPP lo avviate con XAMPP, se usate MariaDB lo avviate con i servizi. Dov'è la M di MySQL? Avviati. Le librerie sono già dentro il progetto. Sì, poi se vi serve un'altra libreria in più che conoscete, perché, non so, da lunga tradizione di famiglia usate quella, va benissimo, la potete aggiungere. Però quella di base, per accesso al database, per jgraph.t, eccetera, la mettiamo già dentro il progetto. Nel caso in cui servisse, sì. In questo caso non l'ho messa perché non serviva. Quindi io qua devo importare il database che trovo, vedete qua c'è la cartella lib in cui ho già messo il connection pool, jgraph.t, il mySQL connector e le librerie da cui dipendono, quindi siamo già abbastanza pronti per partire. Il database è in questo file SQL che possiamo importare. C'è anche un'immaginina che in realtà corrisponde al disegnino che c'è sul testo, questa tabella qua. A noi interessa la SQL da importare. lo possiamo prendere dal workspace, simulazione, database. Ecco, a volte, qui ho messo direttamente le SQL, a volte mettiamo le SQL compattate, ricordatevi di scompattare lo zip prima di cercare di farlo digerire al programma di importazione, che purtroppo non si capisce perché non possano farlo da loro, lo scompattamento. Ok, faccio partire. L'immagina, vedete quanti avvistamenti, 80.000. e rinfreschiamo questa colonna, c'è un database U4 Sightings che contiene la tabella Sightings, che ovviamente è la struttura. È quella che abbiamo visto prima e alcuni esempi sono qua. Città, stato, country, forma, durata, commenti e coordinate. più un dd davanti e un daytime di avvestamento come seconda colonna. Vediamo quanti sono quelli con cui dovremmo lavorare. Noi dobbiamo lavorare solamente su US, così ci facciamo idea se su quegli 80.000 ce ne servono 5.000 o 75.000. select asterisco, from, sighting, where, country, uguale US. e ce ne sono 65.000, quindi in realtà la maggior parte di questi avvistamenti in questo database sono proprio sul suolo statunitense. Forse perché guardano i film di fantascienza dove si attacca sempre o San Francisco o Washington. andiamo avanti sul testo d'esercizio. Allora, cosa dobbiamo fare? Si permette all'utente di selezionare da un menu a tendina un anno tra quelli presenti nel database. La tendina dovrà mostrare a fianco dell'anno anche il numero di avvistamenti avvenuti in US in tale anno. Quindi la tendina, immagino di cliccare su questa, si aprirà 1970, tra parentesi 10. una volta selezionato un anno il programma dovrà costruire un grafo orientato relativo agli avvistamenti in tale anno. Quindi quei 65.000 avvistamenti noi non li digeriamo tutti insieme ma digeriremo solamente la porzione relativa a un certo anno. Su quella porzione il programma dovrà costruire un grafo orientato relativo agli avvistamenti in tale anno descritto così. I vertici del grafo saranno gli stati americani o meglio quegli stati in cui vi è stato almeno un avvistamento in quell'anno quindi ho detto che siano tutti 52 e gli archi del grafo rappresentano leggiamo bene sta frase l'ordine temporale degli avvistamenti. In particolare ci dovrà essere un arco tra lo stato A e lo stato B se almeno un avvistamento in B è temporalmente successivo ad almeno un avvistamento in A all'interno dell'anno di riferimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è un avvistamento in California a maggio dell'anno di riferimento che ho scelto e un altro in Texas a giugno ci sarà un arco tra California e Texas e non l'arco all'incontrario. L'arco all'incontrario oggi potrebbe essere se ci sarà un secondo avvistamento in California a settembre che chiaramente è successivo rispetto a quello giugno in Texas e così via. Quindi in qualche modo in questi archi cerchiamo di mappare il percorso di questi UFO tra i vari stati. L'ho visto qua poi l'ho visto là e quindi c'è un arco che dice che probabilmente se è lo stesso si è spostato in questa direzione. Una volta costruito il grafo si permette all'utente di selezionare uno stato quindi c'è la seconda tendina stato tra i vertici presenti nel grafo e si determini quali siano gli stati immediatamente precedenti e quelli immediatamente successivi allo stato selezionato e quanti e quali sono gli altri stati raggiungibili in avanti attraversando uno o più altri quindi questo punto C è molto semplice dato un vertice del grafo devo stampare i vertici adiacenti l'ingresso e l'uscita e i risultati di una visita a partire da quello quindi banale però per riuscire a vedere qualche cosa. Questo è il punto 1 partiamo da qua. Punto 2 ci chiederà leggiamolo solo velocemente poi sarà il lavoro per domani alla pressione del bottone sequenze di avvistamenti che è qua partendo dalle informazioni contenute nel grafo quindi lavorando sul grafo si determina attraverso una procedura ricorsiva il cammino più lungo degli avvistamenti successivi cioè ossia una serie di stati nei quali sono verificati avvistamenti temporalmente successivi che è una frase lunga per dire gli archi nel grafo che abbiamo determinato prima tale cammino rappresenterà quindi il percorso più probabile seguito dagli alieni sul territorio statunitense non è vero ma ci stava bene una frase qui il cammino trovato dovrà avere come vertice di partenza quello selezionato nel punto 1C quello precedente dovrà essere un cammino semplice cioè ciascun vertice comparirà al più una volta sola il grafo è sicuramente ciclico quindi gli archi che possono tornare al punto di partenza il nostro cammino non ci interessa non vogliamo che ci succeda è orientato secondo l'orientamento degli archi del grafo chiaramente stampiamo il percorso cosa ottenuto elencando gli stati in ordine vabbè di questo ce ne preoccupiamo dopo è relativamente normale in questo caso è una molto semplice ricerca di un cammino più lungo tra quelli possibili nel grafo allora partiamo da qua qui cosa dobbiamo fare costruire il grafo ma prima di costruire il grafo dobbiamo permettere all'utente di selezionare l'anno sarà una semplice qui nel database perché io a priori qui mi dice che gli avvistamenti sono completi tra 1906 e 2014 ma non è detto che ci siano tutti gli anni presenti quindi comincia a chiedere al database dimmi quali sono gli anni presenti nel database poi a partire dagli anni dovrò scelto un anno quando l'utente ha scelto un anno dovrò trovare quali sono gli stati coinvolti in quell'anno che non è detto che siano tutti e una volta trovati gli stati trovare gli archi ok possiamo andare in ordine chiaramente di tutto questo la cosa più complicata è capire qual è il modo furbo di trovare gli archi allora io vediamo un po' cosa ho già nel progetto nel progetto nella package model avevo già una classe siting che è l'oggetto stupido che contiene tutti i campi della tabella quindi il lavoro noioso l'ho già fatto io per voi in questo caso e poi nella cartella db ho un sitings dao che vabbè semplicemente carica tutto l'elenco dei siting tutto non solamente non solamente l'anno che mi interessa all'interno di una lista essenzialmente l'ho fatto per poter testare che il database funzionasse il collegamento eccetera eccetera faccio partire un programma di test che alla fine mi stampa vabbè 80.000 righe inutili giusto per vedere che la connessione al database ci fosse e l'oggetto siting funzionasse a dovere ok partiamo da qua noi avremo bisogno come prima cosa di popolare l'anno ops pardon non così simbuilder qua qui dobbiamo popolare la prima tendina andiamo a vedere come si chiama di solito cerchiamo di dare già i nomi che servono i vari oggetti nell'fxml se dimentichiamo qualcuno ho aggiungetelo tranquillamente allora questa combo box si chiama box anno questa la devo popolare all'avvio del programma perché non dipende da nessuna azione utente quindi quando il programma parte farò una prima query in cui ottiene tutti gli anni allora vorrà dire che il nostro model partiamo da lì quindi creiamo una classe model una delle cose più facili che dovrà fare è gestire l'elenco degli anni quindi avrà una variabile che sarà una lista di anni possiamo usare java.time.year che è già fatto per noi anni lo chiamiamo avvistamenti dai anni e avvistamenti se no vuol dire poco e quindi avremo un metodo del modello che chiameremo get quindi un public list year get anni e avvistamenti e cosa fa questo metodo? scusate le graffe che sono partite per errore questo metodo scusate l'effetto del lunedì questo metodo dovrà fare una query del database salvare il risultato dentro questo anni e avvistamenti e poi restituire il valore lo salvo qua così sicuramente per costruire il grafo mi servirà ancora quindi allora avrò semplicemente una sorta di citing dao dao uguale dao.get anni anni no scusate new dopo new site in dao e poi abbiamo dis.anni e avvistamenti uguale dao.get anni e possiamo ritornare quest'anni avvistamenti che useremo per popolare la tendina adesso ci manca il getanni ma è semplicissimo lo creiamo lo creiamo dentro il dao quindi prima otteniamo la connessione punto get connection poi creiamo uno statement e questo statement cosa dovrà contenere dovrà contenere la richiesta degli anni definiti in database quindi avrà sarà un select from sightings ovviamente sempre di che cosa della colonna e non abbiamo una colonna anno abbiamo però day time quindi dobbiamo estrarre l'anno da day time quindi se non ricordo male in in SQL c'è una funzione year che fa proprio questo prende un oggetto di tipo temporale ed estrae solamente la componente anno e ovviamente questa cosa qua la dovrò mettere distinct gli do un nome come anno e lo ordino per anno crescente se non ho sbagliato dovrebbe venire fuori questa cosa qua come vediamo ci sono dei buchi ci sono degli anni tranquilli in cui le invasioni si sono fermate e queste le dobbiamo inserire nella tendina ok in realtà c'è un altro dettaglio che mi ero dimenticato che la tendina dovrà mostrare anche il numero di avvistamenti avvenuti in quell'anno quindi in realtà non mi basta solo l'anno ma voglio anche un numerino fianco quindi la lista non sarà di year ma dovrò creare un oggetto che è una coppia di valori quindi mi complica un tantino di più la vita vediamo prima come attenere il dato poi andiamo ad aggiornare le strutture dati gli oggetti nel model allora ci serve sapere gli avvistamenti raggruppati per anno quindi l'anno ma anche il count di id ad esempio as count count cnt quindi estriamo questi due valori ovviamente ogni volta che c'è un operatore di aggregazione deve esserci un operatore di aggruppamento e viceversa così conta gli id all'interno di ogni gruppo di anno così vedete che negli anni più recenti siamo diventati un pochino più sclerotici perché si va dalle decine alle migliaia di avvistamenti quindi questa è la query che ci serve questa query però purtroppo devo tornare sul codice a modificarlo non restituisce solamente un elenco di anni ma un elenco di coppie di valori quindi dovrò crearmi un oggettino anno e count quindi creiamo una nuova classe anno e count che contiene dentro uno year anno e anche un intero count quindi dobbiamo creare il solito costruttore e get resetter constructor get resetter e poi visto che questo dovrà essere visualizzato nella tendina mi serve un toString che lo stampi in un modo decente cioè esattamente ciò che voglio vedere nella tendina public string toString che ritorna anno appunto toString l'oggetto year dovrebbe già generarmi l'anno in quattro sifre quindi non ho bisogno di chiamare un formatter particolare spazio aperta tonda posso aggiungerci count chiusa tonda quindi mi dirà 1903 tra parentesi 10 allora con questo oggetto devo andare a modificare il model quindi non mi basta year ma mi serve anno count qui e anche qui ovviamente e anche il dao hanno account a non scrivere la query prima lo paghi dopo ok allora a questo punto la query ce l'abbiamo giusto giusto allora tu dici nella query dovremmo tenere conto che gli unici avvistamenti che ci interessano sono quelli negli Stati Uniti quindi questo conteggio adesso è eccessivo perché conta quelli del mondo giustamente allora devo ancora selezionare where count uguale us diminuiscono non di tanto mi stavo mi stavo chiedendo se potesse capitare che count sia ugual a 0 ma no perché è un caso in cui 0 non mi conta non ci sono righe da contare quindi non mi crea il gruppo ci fosse una join potrebbe succedere ma qui ho una tabella sola ok allora questa dovrebbe essere quella definitiva la inseriamo nel nostro DAO mettiamo a posto i soliti spazi idioti sì qui possiamo mettere gli apici singoli così un po' più leggibile e punto e virgola e adesso dobbiamo semplicemente creare la lista quindi abbiamo il proprio statement lo eseguiamo no result result set result uguale st.execute query creiamo il risultato no count uguale new array list di no count e while result set punto next qui il codice praticamente standard quindi si va abbastanza macchinetta result punto add new anno count allora anno count è il costruttore che richiede due parametri uno è l'anno che prendo da result set punto get anno quindi get questo è un getint di anno tra virgolette allora io ho estratto year dett time qui in SQL ho preso un oggetto data e ne ho stato un numero l'espressione year dett time è un numero solamente quindi lo posso leggere come getint dell'anno poi questo getint lo devo convertire in oggetto year perché è quello che si aspetta all'oggetto ma questo lo posso fare facilmente con year of questa cosa qua a parte la parentesi allora anno count il primo parametro è year of intero estratto dalla colonna anno del database se avessimo letto direttamente la colonna avremmo dovuto fare un get date per averlo come oggetto date e poi da lì lo convertivamo in to local date però visto che è un'espressione che istituisce un valore numerico lo leggo come un valore numerico e lo riconverso e costruisco l'oggetto year perché hanno count dentro vuole un oggetto year e poi il secondo parametro è più facile perché semplicemente il conteggio e quindi abbiamo un result.getint della colonna che si chiama cnt questo chiude new e questo chiude l'add finito il while chiudiamo la connessione e restituiamo il result nel caso di cui qualcosa l'abbia storto ma speriamo che non succeda restituiamo un nulla ad esempio dopo aver stampato il messaggio allora questa è la prima cosa che il programma farà farà questa query come prima cosa e la usa per popolare la tendina questo lo mettiamo nel codice di avvio del controller nel cosiddetto set model del controller quindi dobbiamo ricordarci che anno count andiamo a prendere il controller adesso anno count è l'oggetto con cui vogliamo costruire la tendina box anno quindi lo inserisco lo specifico e l'inizializzazione di questa tendina la metto nel metodo set model quindi anche qua la solita cosa il controller deve conoscere il model e dovrò creare un metodo che non è l'initialize ma viene chiamato dopo set model model m in cui semplicemente innanzitutto mi salvo model uguale m e poi imposto la tendina quindi il box anno punto get items che è la property che contiene i vari elementi add all di model punto get anno get anni avvistamento come ultimo passaggio bisogna fare in modo che questo metodo set model venga chiamato dal main torno nel main devo ottenere l'oggetto controller creare l'oggetto main e chiamare set model creiamo il model questo è facile per ottenere il controller dobbiamo fare il sottogiochino con la fxml loader spezzarlo in una classe uguale xml loader a cui passo questa cosa qui dai ok ho anche un punto di rigola in fondo estrago il controller che si chiama ufo controller loader get controller e infine mettiamolo via vicino questo chiamiamo infine controller punto set model di model così ok tutta questa fatica dovrebbe essere ricompensata dal fatto che la tendina adesso dovrebbe contenere gli anni oppure il programma deve darci un'eccezione vediamo esattamente bellissimo ok adesso dobbiamo fare il lavoro vero finora riscaldamento costruire il grafo quando l'utente preme il bottone avvistamenti che riceverà a questo punto questo bottone avvistamenti un parametro cioè il metodo che crea il grafo riceverà come informazione l'anno rispetto al quale deve costruire gli avvistamenti allora torniamo nel nostro model e quindi pensiamo un metodo che debba che possa costruire il grafo e poi una serie di metodi che permettono di interrogare questo grafo per far sì che controller stampi le informazioni che gli interessano quindi prima di tutto crea il grafo con un parametro year anno public void questo non sostituisce nulla ovviamente dovremmo creare un oggetto graph e decidere chi sono gli archi e chi sono i vertici di questo grafo allora i vertici del grafo sono gli stati qui possiamo fare i sempliciotti e mettere string oppure fare i sofisticati e mettere fare la classe state però questa classe state ha dentro solo una stringa non devo fare nessuna elaborazione particolare mi sembra lavoro inutile quindi possiamo mettere come string come vertice e come arco questo è un grafo che sia orientato ma non è pesato quindi mi basta un default edge questo dovrò importarlo ok graph quindi come prima cosa la crea graph mi crea appunto l'oggetto graph allora che cosa crea ci vuole un grafo semplice orientato non pesato se non sbaglio si chiama simple directed graph se non mi viene il primo colpo lo vado poi a cercare simple directed c'è simple directed graph non è andata bene con come arco il default edge punto class questo è il nostro grafo dobbiamo riempirlo di vertici cioè stati e di archi allora gli stati i vertici sono niente meno che gli stati americani in cui ci sia stato almeno un avvistamento nell'anno in corso allora chiediamo un po' il database quali sono ci interessano gli stati quindi state distinti tra loro sempre dalla nostra tabella sightings perché è l'unica a due condizioni la prima è che country sia us e la seconda è che l'anno sia quello che l'utente ha scelto quindi di nuovo year di daytime uguale che ne so prendiamone uno che abbia un certo numero 2000 così cifra tonda vai e beh questi sono gli stati in questo caso erano 51 è un anno denso dei avvistamenti se vogliamo fare qualche prova con un grafo più piccolo scegliamo un anno in cui ci possano meno avvistamenti 1986 c'erano solamente 39 e così via quindi tenetevi da parte due o tre anni di riferimento con cui fare le prove uno in cui ci sono veramente pochi in modo che il grafo abbia dieci nodi dieci stati quindi sia facile da anche debaggare e poi sapete anche quelli che ne hanno di più e poterli provare ogni volta quindi identifichiamo degli anni di comodo forse per nostra comodità questi stati qua potremmo anche metterli ordinati in ordine alfabetico che sono un coppino più facili sia da leggere che da confrontare ok questo è ciò che vogliamo come vertici del nostro grafo basterà di chiedere al DAO di costruirci esattamente questo quindi il nostro siting DAO avrà un altro metodo public che ritorna una lista di stringhe che sarà un get stati dato un certo anno sì dobbiamo controllare sì che ci sia stato almeno un avvistamento sì ma non lo sto già facendo nel senso che se per caso non c'è stato nessun avvistamento lo stato non compare perché ricordiamoci cosa fa il select togliamo il distinct per un attimo togliamo anche l'ordinamento se non capisco più nulla fammi aggiungere l'id cioè lui in elenco mi fa facendo vedere tutti gli avvistamenti di questa country e di questo stato con il loro id se un avvistamento quindi all'elenco totale se in uno stato non ci sono stati avvistamenti semplicemente in questo elenco totale non compariranno quello stato queste sono già le avvistamenti quindi non sto quello che prima avevo detto in mezza frase se facessi una join dovrei pormi di problema perché se avessi l'elenco di tutti gli stati e poi mi chiedessi per ogni stato quanti avvistamenti ci sono in alcuni casi il risultato sarebbe zero però visto che partono gli avvistamenti per trovare gli stati questo non può succedere in questo caso specifico sì comunque la domanda è sempre deve sempre essere in mente cioè e se è zero cosa devo fare? lo devo considerare inserire oppure lo devo eliminare? in questo caso non può essere zero ok allora dicevamo year anno prima di perderlo scriviamo la stringa spazio poi questo ovviamente non è 1.186 ma è un punto interrogativo che sarà il nostro parametro e qui è solita trafila get connection prepare statement uguale a connection punto get statement prepare statement di questa stringa SQL tutto dentro un try catch ci mettiamo dentro anche la connessione se la query funziona possiamo creare una lista di stringhe mettiamo result e poi comincio a scandire aspetta facciamo prima sì result set uguale st.execute query ma prima devo impostare l'anno quindi st.set int il parametro 1 qua che è l'anno quindi anno punto get value restituisce il valore dell'anno che è sotto forma di intero a questo punto abbiamo eseguito la query e ci salviamo i risultati while result set punto next result punto add new string ma che new string ma sì result set punto get string di state sì sto new string non serve a niente scusate quindi aggiungo una stringa che è quella che mi restituisce il get string poiché le string sono immutabili sono sicuro che ogni volta sarà un oggetto diverso quindi non c'è il rischio non sono obbligato a farmi una copia chiudo la connessione restituisco il risultato altrimenti vabbè stondiamo un null e vediamo allora fatto questo allora è facile creare i vertici del grafo perché basta nel modello creare una lista di stringhe e farci dire dal DAO quindi dovrò ricreare l'oggetto lo chiamo vertici stati uguale DAO.get stati dell'anno che ho ricevuto io come parametro IR e questo dovrebbe essere sufficiente per aggiungere tutti i vertici al grafo ok se vogliamo possiamo fare una piccola prova fino a qua fino a qua ci facciamo stampare quanti vertici ha letto così come sempre cerchiamo di andare avanti per piccoli passi scriviamo codice per 5 minuti e poi lo testiamo non scriviamo codice per un'ora e poi non funziona niente qui ci agganciamo già subito il bottone analizza quindi lo testiamo o direttamente dal controller oppure da un programma da una main di test però testiamolo sempre allora Andrew lo analizza cosa deve fare deve prendere questo bottone che ho qui no perdono avvistamenti avvistamenti c'è da fare prima avvistamenti quindi questo bottone qua avvistamenti deve leggere l'anno e chiamare la crea graf o poi farà altre cose ovviamente ma la prima cosa è leggere l'anno quindi siamo qui Andrew avvistamenti year anno uguale box anno punto get value qui sono fortunato perché essendo una tendina che ho popolato io so che i valori che ci ho messo dentro sono tutti validi quindi non ho particolari controlli degli errori da fare se non che l'utente abbia selezionato qualche cosa quindi l'unica cosa strana che potrebbe succedere è che anno sia null allora vuol dire che l'utente non ha selezionato nulla ma se ha selezionato qualcosa sicuramente è corretto java.time non l'avevo ancora importato punto get value perché si arrabbia caro mio ah no perché è un anno count giustamente allora se anno uguale null allora non va bene e gli dirò errore selezionare un anno a capo punto e virgole e basta e usciamo altrimenti se anno diverso null possiamo procedere quindi chiederemo al nostro model di creare il grafo con l'anno specificato quindi dal mio oggetto anno count mi interessa solamente l'anno il count era solamente per ragioni estetiche così riusciamo a vedere se fa la cosa giusta partiamo dal main eccolo qua non scelgo nulla errore scelgo 1929 avendo un avvistamento solo mi aspetto che ci sia uno stato solo infatti mi ho stampato uno qua me lo stampa nel nel system.out e non l'ho messo nel se invece prendo il 2000 se non ricordo male nel 2000 avevano 51 stati vero? infatti nel 1986 che era l'altro anno che abbiamo scelto adesso non trovo più 39 era il numero che c'era uscito 39 sì 39 perfetto quindi i vertici li abbiamo adesso dobbiamo guardare gli archi allora aggiungiamo prima di buttarci il codice magari mi conviene ragionare un attimo più sui dati allora fammi vedere quali sono i dati che ho sono questi e aggiungiamo and year and year the day time uguale la 1986 per fare un esempio allora questi sono tutti gli avvistamenti negli Stati Uniti nel 1986 va bene cosa me ne faccio? io adesso in realtà sono disordinati non lo sappiamo proviamo a ordinarli per data ovviamente i day time sono tutti dell'anno 1986 però possono essere in giorni e mesi diversi allora cosa vuol dire? vuol dire che qua il primo gennaio c'è stato un avvistamento nello stato del credo sia Kentucky questo il 15 gennaio c'è stato un avvistamento in Maryland può essere o Massachusetts non lo so ma quindi dovrà esserci un arco tra KY e MA per attenzione che il 16 gennaio c'è stato un avvistamento anche nello stato di New York quindi dovrà esserci un arco tra Kentucky e New York e tra MA e New York allora questo qua lo possiamo fare in due modi possiamo scandirci la lista degli avvistamenti e per ogni avvistamento che trovo aggiungo gli archi che lui si porta dietro e poi pensiamo come e questo è un modo scandisco l'unico degli avvistamenti ogni avvistamento non è detto che però comporti un arco solo potrebbe comportarne di più modo 1 modo 2 faccio tutte le coppie degli stati e per ciascuna coppia di stati faccio una query per sapere se c'è un arco oppure no da mettere in quella coppia di stati che di solito ci spaventa sempre un po' perché far tutte le coppie ma io so che gli stati sono 52 al massimo quindi è vero che far tutte le coppie è una complicità N quadro quindi dovrò fare N quadro query ma 52 al quadrato sono comunque 2500 e 2500 query me le posso permettere se pensi che 52 fossero 500 allora ci penserei su un po' di volte quindi in questo caso anche il modo becio stupido di creare il grafo cioè provo tutte le coppie per ogni coppia faccio una query chiedo qui c'è l'arco o no non mi sembra neanche particolarmente svantaggioso e poi c'è il terzo metodo in cui cercare di scervellarsi e fare una query complicata che mi dia già l'elenco esattamente degli archi che devo aggiungere cosa che non è difficile basta fare una join di questa tabella con se stessa vincolando al fatto che l'anno deve essere lo stesso lo stato deve essere lo stesso e le date devono essere maggiori devo dire che quella che delle tre soluzioni quella che mi piace di meno è quella di andare a scandire direttamente questi sightings per ogni sighting chiedendosi ok visto che al 22 febbraio c'era qualcosa in cosa va Virginia quali archi devo aggiungere allora dovrei ricordarmi devo aggiungere degli archi verso lo stato Virginia proveniente da tutti questi stati precedenti quindi devo tenermi una lista di tutti gli stati che ho visto in precedenza aggiungendola e ogni volta che trovo un nuovo stato aggiungere un bel mucchio di archi tutti insieme anche qui non è difficile ma forse c'è un pochino più di cose da scrivere non lo saprei allora io in questo caso in questo esercizio proprio perché gli stati sono 52 al massimo andrei forse nel modo più stupido quindi farei una query in cui chiedo il database senti ma questi due stati per questi due stati serve un arco o no? allora come è fatta quella query questa query dati due stati che sono appunto la California lo stato di New York ad esempio c'è un arco orientato oppure no? allora per farlo visto che sto come sempre in un database quando confronti due righe della stessa tabella non puoi far altro che o avere o una sotto query due query annidate oppure una join di una tabella con se stessa perché così è SQL e quindi noi dovremmo fare proviamo per gradi from siting s1 siting s2 devo fare una join di una tabella con se stessa in cui ovviamente impongo le stesse condizioni quindi che s1.anno anzi l'anno di s1.daytime sia uguale all'anno di s2.daytime e scusate manca where e questo anno sia quello che voglio io che ne so 1986 abbiamo detto e blocco l'anno poi trovo beh devo filtrare per gli Stati Uniti quindi and s1.country uguale us and s2.country uguale us poi adesso ho tutti gli avvistamenti che mi interessano perché ho bloccato lo Stato ho bloccato la country adesso andiamo a bloccare gli Stati di cui vogliamo conoscere l'arco quindi and s1.state uguale non so California and s2.state uguale New York proviamo a eseguirla fin qua s2 ho sbagliato s2 e mi dà 133 avvistamenti coppie di avvistamenti in cui vediamo che in s1 è California e più avanti in s2 lo Stato è New York noi però vogliamo selezionare solamente quelle coppie in cui la data del secondo di s2 perdon date time di s2 sia successiva posteriore al date time di s1 quindi aggiungiamo un vincolo and s2.date time sia maggiore di s1 punto date time e quindi da 133 scende a 57 a questo punto visto che ce ne sono 57 l'arco lo devo mettere quindi a me non interessa in realtà quali siano questi 57 mi interessa sapere se ce ne è almeno uno o no ciascuno ciascuno di questi è un'istanza di un avvistamento in California che ha seguito una data successiva nello stesso anno da un altro avvistamento in New York e quindi basterebbe una riga sola come risultato che io dovrei aggiungere l'arco se io prendessi un anno precedente magari non c'è magari non c'è proprio l'anno non so allora in questo caso non devo aggiungere l'arco tra California e New York quindi per non portarmi dietro tutti questi dati a livello di database di query potrei metterci un count qui che mi dica semplicemente un valore diverso da zero oppure se prendo un anno in cui non c'è nulla mi restituisce zero quindi io vado a leggere questo numerino qui che mi dice se devo mettere l'arco oppure no questo è il nostro giochino questo qui lo andiamo a inserire dentro un metodo del DAO del DAO che a questo punto potrebbe essere semplicemente un boolean esiste arco tra uno stato quindi string stato 1 string stato 2 e poi devo passargli anche l'anno di riferimento perché questo gli permette di filtrare anno e questo a questa domanda esiste l'arco rispondo con questa qui di qua dove l'anno è un parametro US US sono fissi e lo stato California New York invece sono variabili occhio al punto interrogativo non mettetelo non mettetelo dentro le virgolette ok mettetelo al posto delle virgolette perché altrimenti doveva cercare uno stato che si chiami il punto interrogativo e poi ci vuole un punto e virgola qua in fondo oh se volessimo piccola parentesi con questa qui rischiamo un passettino da avere l'elenco degli archi perché qui ci siamo chiesti dati due stati c'è l'arco oppure no se io volessi lo copio da un'altra parte per modificarla potrei semplicemente togliere questi vincoli sugli stati stampare includere nell'acquiri anche gli stati e aggiungere una condizione di raggruppamento proprio rispetto agli stati e mi darebbe l'elenco delle coppie di stati in cui c'è un numero di avvistamenti diverso da zero quindi in questo caso sarebbe quello che abbiamo chiamato prima il caso 3 non la costruzione del grafo un'acquiri che mi da già esattamente 152 archi teniamo nuovamente 152 così controlliamo noi abbiamo deciso di fare l'altro metodo però lo usiamo con confronto ok allora questo esiste arco mi dirà sì o no uguale db connect punto catch connection prepare statement uguale connection punto prepare di questo SQL sì ti faccio il try catch poi devo impostare lo statement quindi il primo parametro che è il parametro 1 è l'anno come intero quindi anno punto get value poi come secondo parametro statement punto set string ho il nome del primo stato quindi parametro 2 stato 1 e il terzo parametro il nome del secondo stato set string terzo parametro stato 2 a questo punto possiamo eseguire l'interrogazione uguale nst punto execute query e andare a chiedere quanti risultati ha trovato quindi int risultati uguale result set punto get int la colonna si chiamava non si chiamava perché non gli ho dato un nome chiamiamola c dai quindi anche qua devo scrivere sc a questo punto posso chiudere la connessione perché non mi serve più e se risultati è uguale a 0 ritorno falso altrimenti ritorno a vero e qua ritorno a falso ad esempio allora questo ci dovrebbe permettere questo metodo esiste arco di costruire gli archi del nostro grafo all'interno del modello scusa? non devo fare fare? non devo utilizzare le altre le altre hai ragione sì grazie mi hai risparmiato un'eccezione sotto magari che dici sì posso mettere rest.next o rest.first dicendo spostalo sulla prima riga sono equivalenti grazie prima riga che deve esserci perché abbiamo un count quindi esituerà sempre se non c'è un problema di connessione esituerà sempre una tabella di una riga per una colonna ok torniamo nel modello allora abbiamo creato gli archi abbiamo creato i versi creiamo gli archi nel metodo enumerativo tutte le coppie quindi for string stato 1 due punti graph.vertexset for string.string stato 2 due punti graph.vertexset se stato 1 non è uguale a stato 2 è inutile è inutile chiederci se c'è un arco tra uno stato e se stesso se gli stati sono diversi se il DAO mi dice che esiste un arco tra stato 1 e stato 2 nell'anno allora aggiungo questo arco add edge stato 1 stato 2 quindi possiamo aggiungere solamente non solamente la size degli archi ma anche quella non solamente la serie dei vertici ma anche quella degli archi della nostra print di verifica e vediamo se funziona allora lanciamo il main abbiamo detto scegliamo l'anno questo qui qui c'ho due avvistamenti e mi dice che il grafo ha due vertici e un arco solo poverino tra due vertici però se io prendo il 2000 no il 1986 abbiamo fatto prima ci mette un attimo di tempo in più perché si separa i suoi 2000 query questa query quanto ci mette un decimo di secondo circa un decimo di secondo per il suo piano della 50 stati per 50 per 0,1 siamo su 250 secondi ok di un 60 dobbiamo pensare di aspettare 4-5 minuti tanto è ottimizzabile la maggior parte del tempo che ci mette questa query è fare questo confronto qua perché deve stare in un year da una data e quindi non può usare nessun indice della tabella come vi dicevo l'altra volta all'esame noi non andiamo a verificare la efficienza del fatto che adesso questo risponde in 5 minuti ma l'avresti potuto fare in modo da rispondere in 2 secondi eccolo qua 39 vertici 1349 archi ovviamente deve rispondere in un tempo che ci permetta la verifica quindi qualche minuto è antipatico aspettare ovviamente quando fate le prove cercatevi degli anni in cui ci siano meno dei casi in cui ci siano meno valori 1349 sono gli archi che lui ha aggiunto proviamo a fare quella qui di là che dovrebbe già calcolare tutti su 1986 e 1380 e qua lui ne aveva 49 perché qui non ho aggiunto la condizione che s1 e s2 fossero diversi vedete che c'è ak ak uguali quindi se aggiungo questa condizione dovrebbe venire sì certo s1 diverso s1 1349 quindi ci quadrano anche i conti ok allora per la conclusione del punto 1 ci mancano solamente due stupidaggini sul grafo che faremo come prima cosa domani alle 4 e poi passeremo alla parte ricorsiva se volete tutte queste query qua che ho scritto le posso salvare da un file letto di testo che ho avuto dentro il progetto adesso a questo punto avendo già iniziato posso pubblicarlo faccio il branch soluzione e ci metto anche queste query così con una riga di spiegazione per chi ora sono così ci aiutano a ricordare il ragionamento che abbiamo fatto insieme ok a domani grazie a tutti grazie a tutti